Bene, dovremmo in due ore analizzare un problema immenso, che è quello del cancro. Il cancro è diventato, come tutti sappiamo, una delle grandi epidemie sanitarie nel giro di pochi decenni. Spesso si dimentica che fino all'inizio del secolo scorso il cancro era una malattia relativamente rara che colpiva tendenzialmente solo le persone esposte, per esempio tra gli uomini fumatori accaniti, tra le donne persone che avevano un'esposizione particolare e fondamentalmente i tumori erano poche tipologie. C'era essenzialmente il carcinoma del polmone, c'era quello della mammella e poi altri che poi nel frattempo si sono ridotti, come il CA dello stomaco, che è rimasto prevalente in altri paesi come il Giappone. E quindi già questo ci pone una serie di domande. Come mai nel giro di pochi decenni una malattia rara è diventata una malattia drammaticamente frequente, tanto che si è parlato del male del secolo, nel secolo scorso, è che nel frattempo siamo arrivati purtroppo a una persona su due che prima o poi fa un cancro e in realtà è più di questo, perché ormai si sa che la gran parte dei maschi hanno un carcinoma prostatico più o meno silente negli ultimi anni della loro vita e quando si aggiungono anche i tumori della pelle ovviamente siamo a cifre tali per cui il cancro è diventata la norma. Questo è il problema, spesso non ci si riflette, non è l'eccezione, è la norma. Ora come si può spiegare questo? Allora di fronte a questo la cosa più assurda è che generalmente, e si direbbe non solo le persone comuni, ma gli oncologi stessi, spesso molti genetisti, molti biologi molecolari, si dicono convinti che il cancro sia un incidente genetico. Una malattia che viene per caso, vedremo che addirittura cinque anni fa venne fuori un articolo, a mio parere abbastanza scandaloso, su Science che titolava, era un editoriale che faceva riferimento a uno dei tanti articoli di Fogelstein che diceva cancer bad luck, il cancro e sfortuna. Non avrò il tempo di argomentare su tutto questo, però cercheremo, correndo tra le slide, di farci un'idea almeno di questo tema centrale. Come si fa ancora a pensare che il cancro sia una malattia genetica, mentre evidentemente è una malattia come tutte le altre, ambientale ed epigenetica? Come tutti i cambiamenti del nostro fenotipo, io lo ripeto ogni volta, è un cambiamento prima di tutto sempre sistemico, le malattie croniche sono sempre sistemiche e poi comunque indotte dall'ambiente, modulate dall'epigenome e condizionate dal DNA. Ora questa che sembra una litania e le prime diapositive che purtroppo molti di voi hanno visto molte volte, ma io so che oggi sono con noi persone che non hanno mai sentito tutto questo, sono costretto all'inizio della relazione a fare una premessa che durerà penso un quarto d'ora circa, quindi chi non ne può più, mi spiace, magari si assenta, si fa un piccolo caffè perché sono veramente un po' costretto a fare questa introduzione dalla genetica alla genomica, all'epigenetica riduzionista, all'epigenetica sistemica, perché sono termini che poi se non introduciamo fin dall'inizio non capiamo tutti i passaggi della lunga relazione che poi sentiremo. Allora, questa prima diapositiva, molti l'avranno già vista molte volte, come si fa a spiegare queste epidemie moderne, le epidemie non quelle attuali, drammatica da coronavirus, ma quelle che hanno veramente disturbato la nostra esistenza negli ultimi decenni, l'hanno cambiata, si può dire, le epidemie di patologie endocrinometaboliche come l'obesità e il diabete che vedete lì raffigurato, con un significativo errore di prospettiva, sembrerebbe che quella persona sia lì obesa perché ha comportamenti e stili di vita sbagliati e non è così, e appunto dovremmo cercare di capire perché non è così, e poi le malattie autoimmuni e le allergie, quindi diciamo le patologie croniche immunomediate, i disturbi del neurosviluppo, le malattie neuropsichiatriche maggiori, le malattie neurodegenerative e il cancro. Il cancro in tutte le sue forme e soprattutto tutte queste patologie stanno dilagando con la brutta caratteristica di essere sempre più precoci nella vita dell'uomo. Allora capite che tutto questo non si può spiegare con incidenti genetici come si faceva una volta, tanto più che non lo faremo questa volta, l'ho fatto nella prima lezione, lo ripeto spesso, è sempre più chiaro che ognuna di queste patologie è associata a decine, centinaia, alcune volte migliaia di geni, vedremo molto rapidamente che nel cancro ci sono spesso 20-30 mila mutazioni, così per esempio sappiamo che nell'obesità o nella schizofrenia ci sono alcune centinaia o migliaia di mutazioni associate, allora è chiaro che questa non è la causa delle malattie croniche. Allora vediamo adesso di capire insieme che cosa intendevo con questa prima diapositiva al primo congresso mondiale sull'origine epigenetica delle malattie, dicendo che queste epidemie hanno origine in epoca fetale, hanno origine nella cattiva programmazione delle cellule, la teoria generale che anche oggi userò per spiegare questa epidemia di cancro è la cosiddetta developmental origin of health and diseases. Le nostre malattie, la nostra salute derivano da quello che succede in epoca embryo fetale. Questa è la regola, in epoca embryo fetale da alcuni anni, decenni, sempre di più, arrivano decine, centinaia, ogni donna ha in placenta centinaia di molecole epigenotossiche, vedete questo era un riassunto di alcune delle più importanti, soprattutto i cosiddetti persistent pollutants, come pesticidi, diossine, ftalati, policlorobifenili, FAS, non ci lasciamo mancare veramente nulla, e poi i metalli pesanti, il particolato ultrafine. Spesso faccio vedere questa serie, qui l'ho abbreviata, di diapositive, perché sono legate a una delle esperienze fondamentali della mia vita professionale, con questo istituto di Bruxelles, Serie, European Cancer and Environment Research Institute, ci hanno chiamato in vari punti per capire cosa succede, per esempio in Martinica, come mai c'è il record mondiale di carcinoma della prostata. Allora, capite, un'isoletta dell'Atlantico, meravigliosa per altri versi, che sviluppa autismo, diabete secondo e il record mondiale del carcinoma della prostata, è apparentemente un piccolo mistero. È stato un mistero fino a quando non abbiamo trovato nelle catene alimentari, e vi assicuro che non era difficile, una molecola che è questa, che si chiama clor de con, che è un potente pesticida usato dalle campagne bananiere francesi per decenni e rimasto lì, come tutti i persistent pollutants, per decenni appunto nelle catene alimentari. Questo spiega di per sé le epidemie di cui stiamo parlando. Nella placenta di questi bambini, vi ricordo, ovviamente tutti lo sapete, che la placenta non è un organo materno, ma è un organo in buona parte che il feto si costruisce per prendere non solo nutrizione e ossigeno, ma anche informazioni dalla madre. Ora questo anche oggi sarà importantissimo, per questo è fondamentale che io vi ricordi alcuni passaggi di questa argomentazione che ogni volta ripeto, perché la placenta è una sorta di, come si potrebbe dire, scatola nera, io avevo scritto black box, comunque è il centro di programmazione, il feto la usa per programmarsi epigeneticamente sulla base delle informazioni che riceve. Qui anche qui sarebbe tante le cose da dire, stiamo cercando tramite questo bel progetto finanziato dal Ministero, un CCM, di dimostrare che per esempio a Taranto le placente sono piene di sostanze come gli idrocarburi poliaromatici, i policlorobifenili, le diossine, i metalli pesanti e quindi chiaramente tutto questo spiega l'aumento di tumori e di disturbi del neurosviluppo soprattutto nei quartieri più esposti come il quartiere Tamburi, ma insomma tutto questo è propedeutico a capire più in generale quello che arriva nel mondo, che sta succedendo nel mondo. Qualche anno fa avevo espresso un po' questa idea di fondo che oggi vedremo anche per il cancro che tutto questo significa che le epidemie moderne sono legate a fattori ambientali che disturbano la programmazione, già in utero. Queste sono semplicemente un elenco di tutte quelle che stanno aumentando, di molte di quelle che stanno aumentando, quelle che ho enumerato prima, alle quali bisogna aggiungere, e non è una cosa da poco, i disturbi della sfera riproduttiva per esempio, addirittura la programmazione del polmone, quello che stiamo vedendo, questa tragedia immensa, è legata anche al fatto che qualcuno scrisse su giornali veramente importanti già una ventina di anni fa che il polmone viene programmato in maniera sempre più disreattiva, iperreattiva e non solo il polmone ma anche i vasi, allora voi capite che già il fatto che la gran parte della popolazione adulta e soprattutto degli anziani, soprattutto nelle aree più inquinate, anche se il termine inquinamento non è propriamente ideale, diciamo che in tutte le aree in cui c'è molto particolato ultrafine e metalli pesanti, le persone che sono lungamente esposte a questo hanno una disfunzione endoteliale di base che spiega e magari vedremo se oggi pomeriggio o la prossima volta che potremo parlare di questo maledetto virus, spiega la grandissima parte dei decessi, il virus è un trigger come spesso capita, il virus come sapete non è un patogeno, qualcuno addirittura a mio parere a sproposito ha parlato di un opportunista, il virus è un trigger molto potente di meccanismo immunoreattivi, immunoinfiammatori ovviamente in qualche modo diventa distruttivo se già c'è una tendenza a fare infiammazione. Ecco tutto questo parte molto presto nella nostra vita, sempre più presto al punto tale che io ho proposto varie volte questa formula, l'informazione che arriva dall'ambiente intesa appunto come tutta un flusso di agenti chimici ma anche agenti fisici, vedete per esempio parleremo molto brevemente come di tutto quando si corre così e questo è il difetto di queste lezioni un po' brevi rispetto all'enormità del tema che dobbiamo trattare, dicevo siamo sempre più esposti a una serie di informazioni, bisogna vederle così, che disturbano la programmazione fetale, per cui non c'è cambiamento del nostro fenotipo in senso fisiologico, in senso patologico che non sia in qualche modo indotto dall'ambiente, che non sia condizionato dal DNA, è importante questo perché condizionato significa non determinato dal DNA e modulato dal software epigenetico che oggi brevemente riassumiamo ma che molti di voi penso, spero che già ricordino come funziona. È importante e lo ripeto sempre che questo significa non ha più senso dire il 20% delle malattie è genetica, il 20% è epigenetica, il 20% è ambiente, no, 100% ambiente, 100% DNA, 100% software epigenetico, cioè lavorano insieme l'epigenoma, il DNA e l'ambiente. Allora detto questo, quando avviene il grosso dei meccanismi che aprono la strada a questa disreattività di base che poi porta a tutte queste malattie ed è importante perché significa che c'è un sorta di meccanismo di base comune a tutte queste patologie. Tutto questo inizia nell'embrione, nel feto. Questa diapositiva che molti di voi hanno già visto talmente tanto che non ne possono più e figuratevi io che la ripeto ogni due giorni, dalla genetica, dall'idea che il DNA, vedete, punto uno, determina la costruzione del nostro fenotipo, all'epigenetica, secondo cui invece il DNA, è solo il database e poi tutto quello che è, parola due, ambiente, modifica o induce delle modifiche attive nel software epigenetico, da questo cambiamento comporta la conoscenza di alcuni passaggi che sono i punti 3 e 4, significano nel periodo della vita embrio fetale il feto, grazie a numero 4, la sua plasticità epigenetica riesce ma anche deve, è capace ma anche gli è necessario di programmare le proprie cellule, milioni, trilioni di cellule per tutta la vita e tutto questo lo fa sulla base delle informazioni che abbiamo visto arrivare attraverso la madre. Questo significa che non ha più senso impostare la medicina e neanche la cosiddetta medicina evoluzionistica sulla base di polimorfismi e mutazioni del DNA perché sempre più spesso siamo arrivati ai punti 6 e 7, quello che riconosciamo in ogni patologia cronica è che appunto c'è un fetal programming, un developmental origin of disease, cioè un'alterazione programmatica che apre la strada alla transizione epidemiologica in atto. Tutti questi concetti sono ovviamente basilari, semplici, però vanno ricordati. Cosa significa? Significa che quando ricordiamo questo è un cromosoma, lo vedete a grande ingrandimento, via via, quello è il DNA che si apre per essere espresso, per essere programmato, per essere letteralmente marcato nelle sue componenti, gli stoni, poi sequenza del DNA e poi ovviamente tutta la modulazione della trascrizione e della traduzione, tutto questo non avviene come normalmente si descrive nelle nostre università. Dobbiamo dirlo, cioè non è il DNA che comanda ma sono le informazioni che gli arrivano che modulano la sua espressione e soprattutto, e qui è importante, la sua programmazione fin dai primi mesi di vita. Allora su questa base cosa significa epigenoma? Questo è il cromosoma, lo apriamo tutto, vedete le due spirali, vedete le varie componenti, vedete gli ottameri cosiddetti di nucleosomi che sono composti da ottameri di stoni, sono delle proteine molto conservate durante l'evoluzione, qui c'è un altro errore concettuale, si pensa beh siccome sono molto conservate durante l'evoluzione vuol dire che sono estremamente importanti e quindi le loro variazioni sono la causa delle malattie, spesso si è pensato così, non è esattamente così, sono molto conservati perché non c'è bisogno che cambino, in quanto come vedremo cambia il loro software, anche qui sarebbe lungo fare un'analisi di ogni affermazione, vi chiedo semplicemente di seguire grosso modo il flusso dei pensieri che fa cambiare questo benedetto paradigma o propone un cambiamento radicale, questa è una cellula, una dei trilioni di cellule che forma il nostro organismo continuamente letteralmente bombardata da agenti chimici e fisici che non danneggiano direttamente il dna ma neanche probabilmente le radiazioni ionizzanti hanno questo tipo di meccanismo come normalmente si dice vedete break, rottura, si pensa che la radiazione ionizzante a differenza dei campi elettromagnetici sia pericolosa perché ha l'energia sufficiente a rompere il dna, no è assolutamente meccanicismo questo, non funziona così, cercherò anche questo di farvelo vedere via via, sempre di più tutti questi agenti agiscono sinergicamente determinando una reazione nel software e questo è fondamentale perché capite che chi ha una calibratura corretta per reagire, chi si è rodato bene all'inizio della vita e ha un software che risponde in maniera armonica bene ma se è già un software calibrato per essere disreattivo iporreattivo o iperreattivo capite che è un gran problema quindi le informazioni che vengono dall'esterno i segnali ambientali impattano questo epigenoma e impattano quindi la informazione che è contenuta all'interno dell'epigenoma adesso qui lo vediamo già in maniera un po' più dinamica e cioè vediamo il dna che è quella linea nera iperavvolta attorno agli stoni dicevamo questo dna produce continuamente proteine ma attenzione solo l'1-2% del dna produce proteine tutto il resto fa altro questo è uno dei dei tanti errori che hanno portato a concepire progetto genoma grandissimo progetto ma non nella maniera del tutto corretta spero di essere chiaro mi riferisco alla lezione precedente vi ricordate dicevo è fondamentale le proteine hanno un ruolo importantissimo ma non sono il prodotto fondamentale del genoma comunque sia il dna continua a produrre le proteine qui ne vedete alcune dai nomi abbastanza astrusi ma importanti non da memorizzare ma da comprendere vedete le istone metiltransferasi le istone acetilasi le istone acetilasi questi sono i primi enzimi che vanno a modulare il cosiddetto codice istonico che cos'è il codice istonico il codice istonico è questo voi avete la cellula qui stilizzata avete il dna lo apriamo per vederlo meglio vedete i nucleosomi quindi gli istoni ebbene gli istoni hanno come vedete dalla figura delle vere proprie code queste code i stone tails vengono continuamente marcate questo è il famoso codice istonico e decidono in un certo senso se il la cromatina si deve compattare e quindi chiudersi e non essere espressa non essere trascritta in questo caso vedete sul listone terzo per esempio si hanno delle metilazioni specifiche nelle lisine nove e tre e via così e si compatta la macchina quando invece arrivano segnali che dicono guardate che bisogna creare avere un'apertura si attiva un meccanismo opposto anche qui semplificato al massimo vedete però la coda dell'istone terzo viene marcata in maniera diversa per esempio la lisina in posizione quattro viene trimetilata e questo è un comando iniziale per dire apriti questo è il cosiddetto codice istonico qui le code le vedete un po meglio è sempre stilizzata ovviamente qui vedete le marcature vedete le lisine fondamentali lo listone più studiato vi dicevo poco fa sono proprio l'istone terzo il quarto soprattutto l'istone terzo perché è quello che determina veramente nel continuo con acetilazioni metilazioni fosforilazioni quindi eh l'apertura o la chiusura ora ovviamente c'è un cross talk continuo tra un dialogo se si può dire tra il il meccanismo cosiddetto del codice istonico e quello che invece è il meccanismo base del silenziamento dei geni quindi a questo punto parliamo della sequenza del dna non più degli istoni la sequenza del dna come tutti sapete è costituita in piccola parte da queste sequenze che codificano le proteine che sono i geni i geni che sono stati sopravvalutati ovviamente ancora una volta ma che sono comunque importantissimi sono la parte che eh codifica le proteine dicevo sopravvalutati nel meccanismo cioè si è pensato che bastasse studiare i loro polimorfismi e le loro mutazioni per capire i meccanismi patogenetici non è così il gene generalmente non cambia eh come si suol dire eh stocasticamente continuamente no il gene è abbastanza stabile è stabile anche sul piano filogenetico da milioni di anni abbiamo gli stessi geni dei primati per il novantanove per cento abbiamo fra di noi gli stessi geni per il novantotto per cento abbiamo gli stessi geni anzi novantotto virgola sette sembra dello scimpanse quindi capite addirittura col topo condividiamo la gran parte dei nostri geni le modifiche la variazione che ci rende biologicamente individui non è lì e dov'è appunto in questi meccanismi che stiamo vedendo che fin dall'inizio ci programmano diversamente le informazioni arrivano prima cambia si modula il codice istonico che abbiamo visto eh qualche minuto fa poi comincia a modularsi direttamente l'espressione dei geni come praticamente questo è il meccanismo più noto la metilazione delle citosine tutti sapete che all'inizio di ogni gene c'è una sequenza che si chiama sequenza promoter questa sequenza promoter viene metilata o ipo o ipermetilata quando viene ipermetilata con questi gruppi metilici piazzata in posizione cinque della della citosina vedete avete la cinque metilcitosina il gene tendenzialmente viene spento non è sempre così ma è grosso modo la base del nostro ragionamento quindi quando aumenta la metilazione delle cosiddette cpj islands che sono le ehm praticamente eh le le isole cpg cioè queste parti del sequenza promoter che sono piene di 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 citosina e guanina eh il gene non viene espresso questa è la modulazione più studiata a questo punto si forma l'RNA messaggero quando si deve formare non si forma quando non si deve formare ma non è finita prima di tutto perché il due tre per cento dicevamo della del forse anche meno del nostro genoma funziona producendo le proteine tutto il resto è formato da sequenze che hanno altro altre altri ruoli importantissimi adesso qualcosa vedremo molte di queste sono sequenze mobili una volta le si chiamava junk non sono per niente junk un'altra parte produce non RNA messaggeri ma piccoli RNA eh non codificanti proteine che hanno il ruolo di ingegneri genetici ora capite che su ogni una di queste slide dovremmo fermarci a lungo non possiamo ma i concetti di base ci portano a considerare ed è fondamentale anche per capire come vedremo gli errori di programmazione del genoma il genoma eh fondamentalmente come un sistema che lavora nella sua interezza e fa continuamente vedete Jim Shapiro ingegneria genetica naturale al suo interno come la fa questa ingegneria genetica beh uno dei meccanismi sottovalutati qui vediamo di nuovo il cromosoma vediamo di nuovo gli stoni la parte che si apre che produce sia RNA messaggeri sia non coding sia micro RNA vediamo un po' i meccanismi che abbiamo visto prima qui vediamo qualcosa di più vediamo che quel novanta per cento di DNA che non è codificante le proteine è composto di sequenze ripetitive e di sequenze mobili ora anche qui infinità di varianti ma le sequenze mobili sono state lungamente reputate come residui dei retrovirus che nei millenni abbiamo incontrato allora errore fondamentale sono eh pezzi di sequenza e ormai sappiamo che sono quasi la metà del nostro DNA quindi capite già da questo che avremmo dovuto capire che non si tratta di junk di di spazzatura ma di una componente importantissima che sono in grado di muoversi quindi noi abbiamo acquisito nei millenni nei milioni di anni soprattutto i primati queste sequenze mobili questi retrotrasposoni che sono in tutte le cellule e sono diversi in ogni cellula e che nelle popolazioni cellulari hanno un ruolo importantissimo che è quello di aprire la strada agli ingegneria genetica quindi se e questo è fondamentale perché lo vedremo nel cancro per esempio se noi demetiliamo determinate sequenze non solo quelle geniche ma in particolare il retrotrasposoni e vedremo che nel cancro molto prima di avere le mutazioni abbiamo una ipometilazione dell'intera sequenza che libera per così dire le sequenze trasposoniche le sequenze mobili allora abbiamo appunto la possibilità di ingegnerizzare molto di più il genoma lo si fa per motivi normalmente difensivi ma diventa pericoloso se questi meccanismi vengono continuamente attivati abbiamo fatto un primo passaggio sintetico però che penso spero sia propedeutico a capire quello che vogliamo dire cioè la macchina genomica viene interpretata come una macchina che da sé riesce continuamente a modificarsi sulla base delle informazioni che arrivano usando parti che normalmente vengono definite spazzatura capite che è necessario a questo punto rivedere la nostra concezione quando mangiamo ogni tipo di alimento sia qualitativamente quantitativamente è un induttore di modifiche epigenetiche il nostro modo di muoverci o non muoverci per millenni milioni di anni abbiamo corso nelle savane molti di noi stanno seduti al computer e molti esseri umani si muovono sempre meno e questo chiaramente spiazza il genoma che ha bisogno di avere una serie di informazioni così vale per l'ambiente normalmente per questo dicevo la parola inquinamento significa poco in realtà dall'ambiente arrivano continuamente informazioni se cambiamo la composizione molecolare dell'ambiente chiaramente mandiamo messaggi che non sono quelli che per milioni di anni hanno modulato l'espressione genica così anche le nostre emozioni non ho il tempo di entrare nei dettagli però sicuramente molto bene ne parleranno anche gli altri ne parlerà in particolare massimo bonucci che di questo è un esperto tutto il modo in cui la nostra vita per esempio anche le nostre emozioni lo stress eccetera modulano l'epigenoma è fondamentale allora questo è fondamentale durante tutta la vita ma il momento in cui l'epigenetica è veramente la base di tutto dicevamo la vita fetale perché perché questi trilioni di cellule a partire dalla zigote si devono differenziare devono migrare devono acquisire una serie di collegamenti tra di loro tutto questo non è scritto nel dna è scritto nel dna la base di questo meccanismo e del modo in cui si forma via via l'organismo stesso ma poi ogni cellula deve acquisire un suo mod una sua modulazione epigenetica particolare l'enorme differenza tra il neurone linfocita parte da questo meccanismo di formazione iniziale per cui adesso anche qui corro per necessità il linfocita diciamo per semplicità il neuroblasto e il linfoblasto sono cellule multipotenti e come tali hanno più o meno lo stesso dna la stessa conformazione morfo funzionale poi devono cambiare in maniera drammatica come vedete e lo fanno migrando differenziandosi ricevendo informazioni modulando il proprio epigenoma e modificando poi la sequenza stessa questo lo aveva capito negli anni 40 un grande genetista waddington che aveva appunto detto la cellula fin dall'inizio si muove riceve una serie di informazioni nel diciamo nei tessuti negli organi lui aveva parlato di una sorta di panorama di landscape epigenetico e quindi si programma in maniera diversa quindi a ogni cellula memoria ogni cellula traduce questa memoria in un software in un fenotipo diverso allora questa galoppata a mio parere era necessaria spero che non sia stata troppo pesante e durata quasi mezz'ora ma era a mio parere necessaria per capire il discorso anche sul cancro perché come vedremo il cancro e questo era il secondo congresso mondiale sulle origini epigenetiche delle malattie in questo caso dovevo proprio collegare quanto detto finora al fatto che il cancro sta aumentando e che non ha senso pensare che siano aumentando le mutazioni stocastiche sta aumentando perché è continuamente attuato questo meccanismo potenzialmente reattivo di difesa che però diventa pericoloso proprio perché continuamente attivato mi fermo dieci secondi si è sentito finora abbastanza bene benissimo si è sentito tutto qua va bene ok allora a questo punto entriamo nel vivo del tema di oggi come possiamo dimostrarlo quantomeno proporlo questo nuovo paradigma di cancerogenesi allora partiamo dai dati ormai dicevamo e questi come vedete le date degli articoli sono importanti dall'inizio del secolo sappiamo che una persona su due ormai tende a fare un cancro qui vediamo un articolo ormai del 2009 quindi un'era fa e quindi i dati sono ulteriormente peggiorati però lo vediamo uomini incidenza vedete che grosso modo si può dire che siamo arrivati a un uomo su due una donna su due in generale per i tumori c'è una leggera prevalenza ancora dell'uomo ma le donne purtroppo ci stanno raggiungendo uno su sette fa un ca della prostata ma come vi dicevo se andiamo a vedere gli ultraottantenni questa cifra purtroppo peggiora rapidissimamente se noi mettiamo dentro anche i melanomi insomma abbiamo capito e anche i tumori della della cute in generale ecco quindi il quadro è questo ed è sicuramente questo in tutto il mondo col fatto che alcuni alcune forme di cancro come per esempio il cancro del colon retto raramente avvenì fino a trent'anni fa era insomma abbastanza raro adesso è diventato il principale big killer insieme al cancro del polmone ora tutto questo tanti anni fa perché sette anni fa eh significa ormai un'epoca fa avevamo cominciato qui vedete Giuseppe Masera grande onco ematologo pediatra italiano stato uno dei primi a recepire questo messaggio che avevamo cercato con difficoltà di introdurre in Italia Renzo Tomatis e io poi adesso vedremo ne parlerò veramente così al volo ma e questo è stato l'inizio un po' del dialogo grazie a Giuseppe Masera e a Terracini abbiamo potuto per esempio su epidemiologia e prevenzione ho potuto proporlo questo meccanismo ma vi assicuro che inizialmente non era facile e come quali erano le argomentazioni e beh grosso modo questo il cancro sta aumentando soprattutto nei paesi meno sviluppati sta aumentando soprattutto nei giovani e in particolare nei bambini l'aumento di cancro nei bambini piccolissimo non è solo un dramma e che è chiaramente un dramma per il bimbo per le famiglie e tutto ma è anche il ehm la chiara dimostrazione che bisogna cambiare modello il cancro è diventato e molto spesso lo si dimentica visto che si parla ancora di malattia rara la prima causa di morte in epoca infantile per malattie vedete l'aumento l'aumento molti dicono ah beh no perché c'è un'oscillazione c'è un'oscillazione ma guardate nel giro di trent'anni come è aumentato in termini assoluti e adesso lo vedremo in termini relativi anche se sul piano poi della mortalità invece c'è un notevole eh miglioramento delle terapie e quindi soprattutto per le lecemia e linfoblastiche la mortalità è andata a diminuire eh drasticamente per fortuna però ciò non toglie che lo curiamo sempre meglio ma ci ammaliamo sempre di più in epoca infantile ancora di più questa diapositiva serve a ricordare che il cancro dell'infanzia non è il cancro del dell'età adulta cancro dell'età adulta in buona parte sono carcinomi eh a sinistra li sapete tutti ma nel bambino invece sono per il ventotto trenta per cento le leucemie ed è una novità perché fino a trent'anni fa erano il sessanta settanta per cento ma perché questo perché sono andati ad aumentare in particolare i tumori cerebrali eh in generale del sistema nervoso centrale è periferico perché eh il ventisei per cento dei tumori infantili e adolescenziali ormai sono tumori del sistema nervoso centrale il sei per cento sono anche neuroblastomi e come vedete sono già più delle leucemie questo è un dato stupefacente e drammatico non mi pronuncio più di tanto poi sono aumentati i linfomi vedete che ormai sono l'otto per cento i tumori come il Wilms o come il retinoblastoma cosa hanno in comune molti di questi beh per esempio se parliamo di neuroblastoma di retinoblastoma di di tumore di Wilms è chiaro che stiamo parlando di tumori e siamo intorno a quindici venti per cento che hanno sicura origine da residui embrionari e questo è già un messaggio importante l'aumento pazzesco di questi tumori infantili ha stupito tutti non ha stupito per esempio Renzo Tomatis con cui lavoravo perché quando arrivarono queste notizie lo ricordo ancora Renzo era ancora tra di noi adesso vi dirò qualcosa di Renzo Tomatis grande oncologo sperimentale che negli ultimi anni della sua vita aveva veramente cercato di 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 trasmettere questo nostro messaggio ma non ci siamo molto riusciti guardate Lancet 2004 vedete quanto è già chiaro questo è un grandissimo studio si chiama Axis è uno studio dell'IARC dell'Agenzia Europea di Ricerca sul Cancro di Lione fa vedere come l'aumento dei tumori infantili sia tutto concentrato nei primi due anni di età anzi soprattutto nel primo anno di età e poi c'è un secondo aumento in epoca adolescenziale anche qui chiaramente bisogna capire vuol dire che c'è qualcosa nel fetal programming soprattutto addirittura nei gameti e poi nella pussea adolescenziale in cui cambiano in ultima analisi segnali ormonali ebbene sono cambiamenti che non hanno niente a che vedere con le mutazioni stocassiche del DNA ma molto a che vedere con i programmi di proliferazione cellulare differenziazione cellulare eccetera elementare Watson però non mi pare che sia ancora stata accettata questa nozione fondamentale due anni dopo 2006 e qui veramente corro il l'European Journal of Cancer vedete 2006 riprende tutti i dati fa vedere che l'aumento spettacolare è soprattutto un sistema nervoso centrale ma anche tessuti molli cominciamo a parlare di sarcomi rabdomiosarcomi per esempio ovvero sarcomi ossei più rari e comunque io allora avevo fatto il punto in questo modo questa grande numerosità del campione dello studio Axis si parla ormai di 180 mila casi di tumori infantili in questi ultimi 30 40 anni in Europa quindi capite la cifra è uno studio che ormai 30 anni alle spalle questi sono i dati di qualche anno fa è importante che ci sia l'aumento soprattutto nel primo anno perché no basta parlare di accumulo di mutazioni stocassiche qui stiamo parlando di disturbo della programmazione in utero quindi potenzialmente come vedremo addirittura con una possibilità di trasmettere per via gametica alcune modifiche quindi addirittura modifiche germinali quindi addirittura transgenerazionali ora tutto questo per di più è importante perché come vi ho detto fin dalla prima slide il l'aumento dei tumori va considerato insieme all'aumento delle altre patologie croniche non mi soffermo tanto l'ho già ripetuto di cosa parliamo parliamo di un aumento già solo nei primi due anni di grosso modo otto volte rispetto a quello che era atteso sulla base dei dati epidemiologici precedenti quando vennero fuori questi studi li abbiamo appunto cercato di portare anche in italia ebbe inizialmente ci fu una sorta di critica probabilmente gli studi sono su base europea quindi ci sono aree come l'ucraina che aumentano i dati di di tendenza a livello infantile assolutamente no epidemiologia e prevenzione qui già non c'era più renzottomatis viene fuori con quest'articolo che ci dice guardate che in italia i dati sono peggio che nel resto d'europa noi abbiamo 175 casi per milione ogni anno 270 negli adolescenti rispetto per esempio agli stati uniti e al resto d'europa siamo molto più diciamo avanti tra virgolette ora vi faccio notare che quello che sta succedendo anche per la mortalità legata alla pandemia quindi c'è qualcosa nell'aria che respiriamo o nelle catene alimentari che insomma veramente ci rende più fragili addirittura nel bambino nel primo anno di età noi abbiamo addirittura il doppio dell'aumento ogni anno si parla di circa 3 per cento ogni anno sembrano piccole cifre ma se voi vedete siamo 25 anni che lo studiamo significa che c'è stato quasi un raddoppio dei casi tumori infantili ogni anno e non è una cosa da poco perché rimane una patologia meno frequente di altre ma insomma e cambia la tipologia la tipologia guardate questo tra l'altro è il genoma poi ne parleremo di alcuni sarcomi del tessuto immolli guardate che anarchia che c'è vedete come l'aumento è significativo all'inizio della vita per tutti i raddomiosarcomi un po meno durante l'infanzia e poi c'è una seconda gobba anche in questo caso nell'adolescenza i linfomi sia gli Hodgkin che i non Hodgkin anche questi erano tumori rarissimi nell'infanzia stanno aumentando soprattutto in adolescenti e poi la leucemia che è aumentata meno in termini relativi rispetto agli altri tumori ma rimane il secondo tumore per incidenza se si mettono insieme tutte le leucemie da un lato e tutti i tumori del sistema nervoso centrale e periferico l'aumento è soprattutto nel primo anno di età e poi rapidamente vi farò vedere che c'è un dato molto importante ve lo dico fin da ora e cioè che le modifiche del genoma non le mutazioni perché la traslocazione non è una mutazione tanto meno un'aberrazione cromosomica lo dico fin da adesso in questo primo anno di età le traslocazioni prevalenti non sono quelle delle leucemie della seconda infanzia tanto meno quello dell'adulto cosa voglio dire voglio dire che evidentemente sono malattie leggermente diverse soprattutto nel primo anno vedremo che c'è una traslocazione che ha un significato particolare l'altro aumento vi dicevo veramente singolare e mi chiedo come mai non colpisca tutti questo è quello a carico del sistema nervoso sia centrale che periferico aumentano notevolmente purtroppo stiamo seguendo ultimamente molti bambini e anche con l'aiuto di pier mario ne stiamo seguendo in particolare proprio in questi giorni uno dei tanti ebbene questi tumori erano relativamente infrequenti stanno diventando rari probabilmente almeno in parte si può collegare al questo ovviamente per ora non è facilmente documentabile ma secondo abbiamo costruito anche qui molto rapidamente un gruppo di valutazione costituito da hardel che è un epidemiologo questo è uno dei suoi studi e poi belia e io ci occupiamo più della biologia molecolare poi c'è carpenter e poi c'è belpom abbiamo proposto queste analisi più volte alla IARC e alla l'OMS secondo noi gli studi sono già molto chiari ci viene contrapposto spesso lo studio Interfon che è pieno di bias e che non dimostra nulla al nostro parere invece i nostri studi dimostrano che per un'esposizione di almeno dieci anni per almeno uno o due ore al giorno l'aumento dei gliomi per esempio dei glioblastomi è notevole questo ormai è confermato da vari studi non è ancora accettato dalle istituzioni per una serie di motivi non sto qui a fare polemiche noi abbiamo proposto alla IARC con una lettera che abbiamo firmato qui vedete alcune delle nostre firme in mi pare che fossimo 200 nella prima lettera la IARC ha risposto dicendo che avrebbero la IARC fa parte dell'OMS come sapete che probabilmente è vero che per alcuni tumori c'è un aumento dopodiché però la hanno definito carcinogeno possibile hanno messo i campi elettromagnetici nel gruppo 2b e questo non mi soffermo ma è importantissimo perché 2b purtroppo non è la classificazione adesso stanno rivedendo le classificazioni ma passeranno anni così adesso ci beccheremo anche il 5g e siamo tutti tranquilli questi sono alcuni dati in cui si vede l'aumento dei gliomi da molti studi ormai questa è una meta analisi fa vedere che il glioma aumenta con l'esposizione di lungo periodo questo è anche uno degli studi che ha portato avanti hardel per far vedere come non è vero altra leggenda che i nuovi cellulari siano meno pericolosi perché perché il vecchio la vecchia teoria è che il campo elettromagnetico è pericoloso ma fino a un certo punto perché è dotato di poca energia quindi i vecchi cellulari che sparavano con un maggiore energia beh sono più pericolosi creano più calore assolutamente non è vero i nuovi smartphone sono più pericolosi perché si allarga la banda e la banda è fondamentale perché aumenta l'esposizione a frequenze diverse casomai levis che è stato un po il nostro maestro in questo campo angelo levis altra persona che voglio ricordare grande mutagenetista ha fatto vedere varie volte dell'università di padova ha fatto vedere come purtroppo gli studi che non sono finanziati per il 70 per cento mostrano la pericolosità quelli che sono finanziati dalle grandi industrie per il 70 per cento dicono che non ci sono effetti e questa è l'esposizione nel bambino molto maggiore che non nell'adulto e quindi la sprogrammazione comincia molto presto questa è una meta analisi che abbiamo fatto questa veramente è un articolo che abbiamo pubblicato su children development non è un grande articolo però cominciava a introdurre il discorso guardate che i campi elettromagnetici agiscono epigeneticamente come lo diciamo noi beh praticamente diciamo anche qui vado molto rapidamente se voi esponete delle cellule a campi elettromagnetici di frequenza 800 1900 megahertz che sono quelli dello smartphone voi vedete che dopo pochi minuti cambia qualcosa cosa cambia l'espressione genica non ha niente a che vedere con la temperatura sono proprio vedete non thermal sono proprio le stesse frequenze che vanno a diciamo stimolare la espressione genica di proteine dello stress addirittura di alcuni protooncogeni vedete c mic che è un famoso oncogene oncogene dove agiscono soprattutto proprio sulle cellule embrionarie che come al solito e lo sottolino di nuovo sono quelle che più plastiche sul piano epigenetico e sulle cellule staminali che sono poi quelle che vedremo degenerare in senso neoplastico quindi ancora una volta vogliamo inserire questi dati nella valutazione dei campi elettromagnetici assolutamente non lo si fa lo sottolineo per cui quando si continua a dire non sono pro cancerogeni si dice qualcosa di molto relativo perché perché si usano ancora il vecchio modellino della energia collegata e quindi per esempio degli effetti termici mentre noi sempre di più stiamo cercando di far vedere come perfino per le radiazioni ionizzanti quelle tipo i raggi x per intenderci che hanno alta energia questa regolina del double strain break cioè che più è alta l'energia più si rompe il dna più si salta gli elettroni eccetera è un meccanismo veramente rudimentale questo è un modello che hanno fatto i fisici non i biologi e lo hanno fatto cent'anni fa eppure si continua a ragionare in questi termini chi è interessato può trovare quest'articolo che avevo scritto è una riedizione di alcuni lavori che avevo fatto precedentemente con lucia migliore che l'ordinario di genetica medica all'università di pisa per dimostrare che perfino per le radiazioni ionizzanti si deve ragionare in termini di epigenetica e non di genetica e lo abbiamo riassunto tutto questo eh con questo review di letteratura che fa vedere come l'epigenetica adesso lo vedremo un po' più in dettaglio anche se non riuscirò a fare tutto però rapidamente sì eh non ha senso più parlare del cancro come un incidente genetico l'aumento continuo dei tumori soprattutto infantili è un argomento tra i più forti vedete che l'anset nel 2018 pubblica una review che già ribadisce non è una cosa secondaria ribadisce che quello che era venuto fuori già nel 2004 è ancora una volta assolutamente vero lo dico perché purtroppo per tanti anni si continuava a dire probabilmente quei dati sono da rivedere c'è un rallentamento dell'aumento mi sembra un gergo politico più che scientifico in realtà non è così l'aumento c'è ed è continuo ed è soprattutto in quei tumori dove lo abbiamo segnalato ora tutto questo paradossalmente anche se è stata una corsa che è durata quasi un'ora siamo a meno di molto meno di metà del discorso perché perché noi dobbiamo veramente rivedere l'intero paradigma ancora una volta partire da quello che è la base sulla base di tutto quello che abbiamo detto che cosa significa cambiare il modello di cancerogenesi significa che noi normalmente consideriamo il cancro come l'effetto una sorta di malattia di legata a un incidente l'ho detto fin dall'inizio genetico il modellino è puramente darwiniano neo darwinista qualcuno dice lo esprime anche così questo è uno dei tantissimi articoli di mel greaves che dice il cancro è malattia genetica legata al modello neo darwinista praticamente si formano continuamente delle mutazioni nel nostro organismo come sappiamo le mutazioni sono stocastiche poi vengono selezionate quelle più vantaggiose per il clone cellulare insomma darwin assolutamente a nostro parere a mio parere in particolare non è per niente così il cancro è una malattia sistemica è legata al fatto che il tessuto e non la singola cellula non acquisisce mutazioni ma si programma in maniera diversa acquisisce una serie di modifiche che vedremo essere epigenetiche le mutazioni seguono stabilizzano e trasformano il fenotipo neoplastico ma non sono la causa del cancro eppure se voi andate a vedere sul national cancer institute e nella grandissima parte dei trattati di oncologia si continua a dire vedete random gene changes questa si chiama somatic mutation theory il cancro è legato all'accumulo di mutazioni stocastiche sta parola stocastiche ogni tanto ve lo faccio riecheggiare perché appunto è onomatopeica determina l'evoluzione neoplastica dei tumori questo è il modellino è il modellino che viene continuamente proposto e difficilmente ne accettano altri il modellino per cui se la mutazione per esempio per sfortuna perché vi dirò appunto vi farò vedere l'articolo si continua a dire per sfortuna colpisce per esempio uno dei geni sapete per esempio le cicline che controllano i vari a vari livelli il ciclo cellulare questo lo conoscete bene vedete soprattutto durante l'interfase abbiamo tutta una serie di controlli a partire vi ricordate le varie fasi del ciclo ebbene se per esempio viene a mutare per sfortuna una ciclina chiaramente comincia la iper proliferazione la alterata differenziazione eccetera tutto questo veramente rudimentale è vero che prima di avere l'evoluzione in senso neoplastico si hanno una serie di passaggi come l'iperplasia la metaplasia e poi appunto la neoplasia ma questo appunto sottolineo fin da adesso può essere legato a tanti fattori epigenetici l'iperplasia può essere reattiva e tendenzialmente compensativa come anche la metaplasia la degenerazione in senso neoplastico è sempre tardiva è sempre il prodotto di una serie di passaggi quindi a questo punto come si fa a pensare che si tratta di incidenti genetici e che l'aumento drammatico soprattutto nel bambino sia legato a mutazioni stocastiche al nostro a mio parere non è così vedremo come e poi lo vedremo più avanti in realtà si può già immaginare un modello totalmente diverso si può immaginare il cancro letteralmente come un piccolo organismo che si costruisce all'interno di una nicchia si costruisce un gruppo di cellule una sorta di nicchia che lo può che le porta a evolvere in senso sbagliato è una malattia disontogenetica il cancro è una malattia sistemica legata a dei segnali che in qualche modo arrivano dall'esterno e che vengono trasformati per via epigenetica in un piccolo organismo che si adotta un suo metabolismo una sua struttura diciamo difensiva perché utilizza i macrofagi per difendersi una sua impalcatura vascolare e tutto un suo sistema di difese di evoluzione indipendente eccolo qua vedete nella visione riduzionista il cancro sono cellule che hanno che hanno accumulato mutazioni stocastiche vengono selezionate nella visione che vi sto proponendo e che in parte è accettata invece il cancro è un piccolo organo un piccolo embrione alterato ma insomma ci sarebbe anche su questo molto da dire però vedete la conformazione del cancro in termini di piccolo organismo è già chiara in questa immagine ora questa neoformazione questo insieme di cellule che perdono la differenziazione o meglio come vedremo che acquisiscono una differenziazione sbagliata può essere letta allora non come l'accumulo di mutazioni ma come un vero e processo di sviluppo o evolutivo distorto che avviene fin dalle prime fasi della vita per trasformazioni molecolari epigenetiche o addirittura cromosomiche perché vedremo che le traslocazioni non sono mutazioni ma sono veramente costruzioni genomiche in cui pezzi di cromosomi diversi si collegano tra di loro con una sorta di obiettivo finale ora qui si dice ma tu stai mettendo un modello teleologico o quantomeno teleonomico all'evoluzione ebbene sì sono convinto che questo vale sia per l'evoluzione che per lo sviluppo i meccanismi sono tali per cui sono tendenzialmente reattivo difensivo adattativi e non sono per niente stocastici allora su questa base chiaramente ci sarebbe molto da dire ma diciamo le le grandi linee che adesso cercherò di argomentare prima di tutto molto prima di avere le mutazioni il genoma va sempre incontro nel caso di cancerogenesi prima di tutto a una ipometilazione diffusa ora capite perché siamo partiti da lì ipometilazione diffusa significa che il genoma perde i gruppi metilici quindi perde i silenziatori muove le sequenze mobili e non per caso perché le utilizza per fare ingegneria genetica le sequenze codificanti invece vanno incontro delle modifiche particolari di solito quelle che colpiscono di più sono le ipermetilazioni dei geni oncosoppressori ora qui entreremo un minimo dei dettagli se ce la facciamo cosa significa ipermetilazione dei geni oncosoppressori significa che i geni che devono controllare fisiologicamente la morte cellulare programmata la proliferazione eccetera vengono bloccati ma vengono bloccati perché di fatto il la cellula sta cercando di difendersi quindi attiva tutta una serie di macchinari muove le sequenze mobili muove utilizza gli rna minori costruisce vere e proprie per esempio le traslocazioni modifiche cromosomiche reattive e quindi di fatto tutto questo deve essere visto come un processo potenzialmente difensivo che diventa pericoloso normalmente leggerete su tutti i trattati che c'è il paradosso delle cellule neoplastiche che vanno incontro a una ipometilazione della sequenza una ipermetilazione invece dei geni come avete capito adesso non è un paradosso è assolutamente il meccanismo di base che porta l'ingegneria genetica quindi in ultima analisi e questo va portato anche sul piano non solo della biologia dello sviluppo ma addirittura della biologia evoluzionistica diciamo che il modello che vi sto proponendo non è un modello darwiniano l'ambiente e in questo caso l'ambiente dei tessuti l'ambiente dell'organismo singolo non si limita a selezionare come nel modello darwiniano le cellule avvantaggiate dalle mutazioni stocastiche è una tautologia questo non è una definizione seria ma invece le cellule hanno accumulo una serie di modifiche che sono e prima epigenetiche poi genomiche poi anche di sequenza ma lo fanno per difendersi da un bombardamento vero e proprio quindi si tratta di un paradigma totalmente diverso le informazioni che sono ormai presenti ovunque in ambiente in particolare molecole di sintesi in particolare prodotti di processi di combustione in particolare campi elettromagnetici lavorano insieme e spingono questo sistema ovviamente qui non vado nei dettagli a modificarsi quindi è la modifica dell'ambiente che abbiamo indotta violentemente in pochi decenni che sta definendo una vera e propria disevoluzione della specie il cancro non è altro che uno dei segni più drammatici di questa disevoluzione allora praticamente questo che vi sto raccontando siamo arrivati a un'ora dobbiamo adesso trattarlo in modo più specifico se voi andate scusate sul sito dell'IOM dell'associazione italiana di oncologia medica dovreste trovare ancora questo volume che è stato composto da tutta una serie di autori una decina di anni fa e che è stato pubblicato nel 2011 se non sbaglio in questo c'è stata anche la revisione finale di Pietro Comba lo sottolineo perché è l'istituto superiore di sanità ed è una persona estremamente seria ebbene alcuni di noi come vedete in particolare Belpom che è uno che è questo oncologo francese che coordina anche il gruppo sui campi elettromagnetici ha fatto la prefazione poi io mi sono occupato dei meccanismi vedete molecolari e in pratica ci sono questi modelli di evoluzione del cancro di cui vi ho appena parlato della cancerogenesi chimica ma soprattutto ho introdotto quella che è la cancerogenesi transplacentare transgenerazionale ve lo trovate tutti come tutto nel testo dell'IOM quindi stiamo parlando di roba di dieci anni fa quindi non è una cosa come dire recentissima allora Belpom lo ha introdotto qui vedete Renzo Tomatis io ci tengo sempre a partire da lui Renzo è stato veramente quello che ci ha spinti a occuparci di tutto questo è stato quello che ha organizzato era il direttore scientifico il nostro direttore scientifico per anni nell'ISDE di cui ero poi ho preso il suo posto indegnamente come presidente del comitato scientifico quando lui ci ha lasciato ci ha lasciato nel 2007 perché perché Renzo aveva un'emotilia quindi ha fatto per anni i trattamenti che poi gli hanno indotto come molti di voi sapete l'epatite C e poi l'epatocarcinoma qui era già negli ultimi anni della sua vita ebbene ehm riassumo lui praticamente è stato quello che ha eh veramente letteralmente impostato tutta la eh classificazione dei dei cancerogeni di gruppo A di gruppo 1 di gruppo 2A di gruppo 2B eh non entro nei dettagli però sempre nella sua vita ha detto eh la gran parte degli studi sono falsati vi faccio vedere per esempio questo perché c'è veramente un'assurdità nelle valutazioni lui ha combattuto tutta la vita ha scritto libri come questo che vedete qui il fuoriuscito già il titolo lo dice lui è stato a un certo punto da direttore della IARC prepensionato proprio perché diceva queste cose che cosa diceva praticamente si vuol far credere che il cancro è un incidente genetico legato agli stili di vita si vuole far credere che questi dati vedete uno due quattro per cento pollution occupation siano realistici assolutamente non è vero notare che lui lo diceva già da trent'anni quando ancora l'epigenetica molecolare era di là da venire ora come vengono valutati i tumori beh per esempio le origini del cancro eh per esempio qui eh personaggi come questo e non entrano nei dettagli questo boffetta Paolo boffetta i francesi lo chiamano boffetta e lo chiamano anche un po' rionicamente perché non non lo reputano sempre degno di grande fiducia questo ehm collega c'ha mille passa lavori su pubmed ecco per dirvi se voi su pubmed il nome boffetta lo trovate ebbene lui dice che il cancro è a cause ambientali nell'uno due per cento dei casi come avete capito per me ma anche per Renzo nel cento per cento dei casi ma questo lo avete capito perché cambia totalmente il modello nel duemilasette eh alcuni autori eh almeno rivedono in aumento vedete che c'è anche lui tra l'altro e accettano che si deve arrivare al diciannove per cento eh qualcuno dice no guardate sono di più ma insomma siamo sempre a quelle cifre eppure eh da sempre che l'ambiente sia prevalente lo si vede dal fatto che quando ci si sposta i tumori rapidamente diventano quelli del luogo d'arrivo non del luogo di partenza per cui chiaramente eh appunto nell'introduzione già di Belpom è chiaro da quell'introduzione che il cancro va considerato come malattia che ha origini più ambientali che genetiche a questo punto il secondo capitolo quello che era stato affidato uno dei tre o quattro adesso neanche mi ricordo che erano stati affidati a me eh erano quelli proprio sulla cancerogenesi chimica io rapidamente passando il rassegno alcune di queste sostanze i meccanismi sono sempre diversi ma spesso si studiano solo i meccanismi terminali ci si dimentica che molte di queste sostanze sono ormai guardate ben più i pesticidi nelle catene alimentari per cui di fatto siamo esposti ai pesticidi fin dalla nascita o meglio fin dal concepimento questo spesso non viene preso in considerazione eh le diossine vengono valutate come inquinanti essenzialmente messi dagli impianti sì sì benissimo ma poi quello che viene emesso dall'impianto finisce nel per esempio in tutto il territorio viene attraverso la catena alimentare amplificato e biomagnificato finisce nelle catene alimentari il formaggio che viene prodotto in una zona dove c'è un incenditore poi finisce a mille duemila chilometri di distanza questo gli studi epidemiologici diciamo che lo sottovalutano soprattutto molte di queste sostanze sono per esempio il traffico veicolare non riguarda solo gli adulti ma riguarda il bambino ma riguarda l'utero e come vedremo questo non è una cosa da poco per esempio questi studi di Knox qualcosa poi magari la rivedremo meglio dopo hanno dimostrato già dai primi anni del secolo del terzo millennio diciamo così che non è tanto l'esposizione diretta del bambino ma è l'esposizione della madre che conta e le leucemie per esempio aumentano in rapporto all'esposizione materna a idrocarburi poliaromatici da traffico veicolare per esempio attorno alle grandi arterie c'è un aumento significativo di tumori del bambino perché è esposto prenatalmente questo discorso vale per molti molte sostanze che sono già di per sé cancerogene come i metalli ma che sono anche coca cancerogene pro cancerogene per esempio molti di questi guardate il cadmio o altri come il cromo agiscono per esempio non solo in quanto cancerogeni diretti per esempio come il piombo come al come l'arsenico ma anche come pro cancerogeni per esempio alterano i meccanismi di riparazione del dna ora qui non mi posso non posso entrare nei dettagli ma questo cosa significa che la cancerogenesi è il prodotto di tutta una serie di meccanismi che sono di vario tipo che agiscono fin dalla nascita e che sono legati all'alterazione dell'intera biosfera o addirittura dell'intera ecosfera a questo punto l'altro paragrafo l'altro capitolo che mi era stato dedicato è facciamo un minimo di storia della cancerogenesi ebbene che la cancerogenesi sia ambientale e chimica lo sapevano molto di più negli anni precedenti per esempio nell'ottocento c'era la storia del del degli spazzacamini persi valpot eppure noi abbiamo dimenticato queste storie persi valpot aveva eh detto beh aumenta il carcinoma dei del dello scroto perché perché chiaramente questi poveretti vengono esposti a al fumo al del del cammino ed è chiaro che quella zona è molto esposta e i fumatori e addirittura gli sniffatori di tabacco con la differenza della localizzazione chiaramente lo capiamo tutti ecco persi valpot ecco lo spazzacamino siamo nel settecento quindi nel settecento era chiaro che il cancro era legato all'esposizione addirittura questo studio dell'ottocento di un italiano fa vedere come tra le suore che usano i corpetti è molto diffuso il carcinoma del seno mentre per esempio eh nelle signorine che fanno altro tipo di lavori eh sono le altre altre zone quelle che sono colpite ora tutto questo nella storia della cancerogenesi era chiarissimo fino a quando fino a quando negli anni cinquanta non arriva anche in questo caso il famoso studio sul dna di Watson e Crick e lì comincia a cambiare tutto di colpo ovviamente gli investimenti vanno tutte sul dna il dogma di Crick ci dice che il dna comanda no vi ricordate nelle altre lezioni ve l'avevo fatto vedere e si comincia a notare come nel cancro ci sono sempre delle mutazioni e si reputa erroneamente come sto cercando di farvi vedere che queste sono la causa del cancro no queste sono importanti ne vedremo alcune queste sono alcune delle traslocazioni più famose vedete la 922 vedete la 814 questo è il Burkitt questo è il famoso cromosoma Philadelphia dell'LMC e questa le vedremo alcune di queste poi eh criticamente nel senso che vi farò vedere che possono essere interpretate in maniera molto diversa questa addirittura è la leucemia promielocitica che come tutti sapete ormai curiamo con l'acido retinoico quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona in questa teoria per cui le mutazioni eh cosiddette stocastiche non possono essere riparate dall'acido retinoico dico in quel caso ma vedremo tutto questo poi in maggior dettaglio allora nella storia del cancro ci sono tutta una serie di date che fanno capire come non si sia capito eh l'importanza dell'ambiente del tessuto del in particolare il tessuto perché è induttore di tutta una serie di di messaggi che arrivano dall'ambiente allora eh si può ragionare così beh sì si può perché guardate Fogelstein e Weinberg che vi ho citato prima sono i due maggiori esperti reputati come tali di cancerogenesi Fogelstein in particolare quello che ha diviso i i geni mutati in oncogeni in geni oncosoppressore e al limite anche in geni di stabilità ma insomma le due grandi categorie sono come sapete tutti gli oncogeni e i geni oncosoppressori non entro nei dettagli perché chiaramente c'è del vero in questo ma va ridefinito tutto questo meccanismo in chiave totalmente diversa non è che quando per sfortuna eppure si continua a ragionare così vengono colpiti questi geni succede il disastro non è che esistono solo le cosiddette random mutation nei geni driver come era teorizzato all'inizio ormai è chiaro che in quasi tutti i tumori e lo vedremo tra poco esistono migliaia di mutazioni che stabilizzano il fenotipo neoplastico ma che il meccanismo non è per niente questo qual è il meccanismo proposto da Fogelstein e Weinberg beh per esempio Weinberg lo definisce chiaramente anche lui darwiniano e cioè cosa dice Weinberg in questo che è l'articolo tuttora più citato della storia dell'oncologia un articolo sperimentale e anche clinica in parte un articolo importante come vedremo ma assolutamente non accettabile alla luce di quello che adesso sta emergendo allora la teoria di di Weinberg e di Fogelstein è questa quando per sfortuna lo dicono loro che così vengono colpiti alcuni geni particolari da mutazioni le pathway che controllano la proliferazione la differenziazione vengono a essere alterata e parte il processo neoplastico che consiste in una serie di hallmarks di segni distintivi per cui le cellule non hanno più bisogno di segnali di proliferazione per proliferare non sono più sensibili ai segnali di stop evadono la morte cellulare cioè le apoptosi vanno incontro quindi a una crescita furibonda si auto formano per angiogenesi e non si capisce bene se tutto questo secondo loro è legato alle mutazioni e soprattutto fanno eh metastasi ebbene eh come farò vedere non è così non è così nel senso che tutte queste mutazioni hanno una loro eh collocazione all'interno di un meccanismo epigenetico alterato ma soprattutto vedremo che quella principale che è il dare metastasi lo sottolineo fin da adesso spero di riuscire a farvelo vedere anche come meccanismo non è il prodotto di una mutazione la metastasi che è il modo in cui il cancro uccide il cancro uccide perché dà metastasi e questo ormai lo sappiamo tutti non è legato a mutazioni del DNA allora come lo possiamo ehm tradurre tutto questo è un meccanismo è comunque sono dei degli articoli importanti danno una visione già chiara di quello che è il network informazionale all'interno della cellula non entro eh troppo nei dettagli perché non ho il tempo anche qui non entro nei dettagli ve lo cito soltanto questo articolo vedete duemilaquindici questo articolo che vedete qui in basso di Fogelstein e questo è l'editoriale parla chiaramente di bad luck e lo fa con una petizione di principio dice visto che noi sappiamo che le mutazioni sono stocastiche che sono geni driver eccetera eccetera allora a questo punto è chiaro che sfiga allora chiaramente tutto questo in un paese in cui si scrive eh si propaganda roba come questa se voi avete pelle eh voi siete a rischio di melanoma se voi eh avete cinquant'anni avete appetito siete se vi sentite bene siete a rischio di colon cancer questo si chiama terrorismo ebbene di fatto abbiamo cercato io fra l'altro ero in quel primi di gennaio erano i giorni degli attentati a Parigi ehm vi ricordate i primi attentati alla rivista umoristica e c'era un dibattito aperto su questo articolo mi ricordo che litigai con una biologa americana perché lei era assolutamente convinta di tutto questo la IARC prese posizione dopo qualche giorno dicendo non bisogna esagerare non è bad luck attenzione però perché quell'articolo che vi ho fatto vedere aveva fatto il giro del mondo c'era un miliardo di persone che l'avevo visto su tutti i telegiornali che il cancro è la sfiga del resto già alcuni per esempio questo è la Zebnic grande biologo molecolare aveva notato una cosa importante guardate che gli stessi almarc del cancro sono tipicamente degli adenomi dei lipomi tutti questi fanno angiogenesi perché altrimenti vanno in necrosi tutti questi hanno un sacco di mutazioni tutti questi evadono l'apoptosi per cui il lipoma può diventare enorme lo sapete tutti eppure non ha niente a che vedere col cancro queste non sentire i segnali di stop non avere bisogno di segnali di proliferazione per proliferare ce l'hanno anche le forme benigni l'unico vero halmax del cancro è la tendenza a dare metaspasi se voi poi andate a vedere il genoma del cancro e come andare a cercare dice quest'articolo famoso su nature 2010 lago del pagliaio perché in realtà il pagliaio e il genoma che è immenso le mutazioni sono di questo tipo altro che le cinque mutazioni driver di fogenstein nel lung cancer per esempio ne abbiamo 23 mila nel breast cancer ne abbiamo 27 mila come media qui parliamo di decine di migliaia di mutazioni e genoma come vi ho fatto vedere proprio brevemente anche una figura che ormai è totalmente anarchico questo non è la causa del cancro questo è il punto di arrivo di anni di stabilità genomica e nel bambino piccolo non sono decenni di stabilità genomica ma sono qualcosa che evidentemente si forma rapidissimamente da una programmazione sbagliata vi faccio notare il brain cancer vedete che qua c'è relativamente meno mutazioni quantitativamente questo è interessante anche questo non ho il modo di farvelo vedere in dettaglio ma il neurone non dà cancro generalmente caso mai sono i gliomi i glioblastomi gli astrocitomi medulloblastomi capite il cancro viene dalla glia il cancro non viene dai neuroni i neuroni fanno migliaia di mutazioni fisiologiche nel nostro neurone voi trovate normalmente migliaia di mutazioni perché nel sistema nervoso centrale come anche nei linfociti le mutazioni servono allora che cosa hanno fatto alcuni autori hanno spiegato tutto questo questa tendenza a mutare come mutator fenotype non significa niente cioè una sorta di instabilità che alcune volte si viene a determinare per cui poi diventa il cancro un insieme di mutazioni col tempo sì ma il problema è ma perché tutto questo si spiega con le mutazioni che producono altre mutazioni si spiega beh questo è già molto più interessante con dei riarrangiamenti catastrofici che a un certo punto avvengono e la parola riarrangiamento è già molto più interessante perché come capite chi va a vedere la biologia molecolare vedete vi ho fatto vedere la figura del sarcoma anche poco fa ma questo vale anche per molti carcinomi voi vedete spesso una catastrofe di riarrangiamenti ora tutto questo come lo si spiega lo si spiega appunto su base epigenetica perché lì come tirazione progressiva il togliere i silenziatori i gruppi metilici dalla sequenza il muovere continuamente le sequenze mobili praticamente apre la strada delle modifiche genomiche a un'instabilità che serve alle cellule per difendersi quindi altro che paradosso lì permette l'azione delle sequenze geniche serve a bloccare i geni oncosoppressori ma non sono errori sono il tentativo da parte di queste cellule di difendersi da qualcosa in particolare le mappe vedete questi sono articoli di 13 anni fa questo è steller è un abbiamo presentato con steller insieme l'epigenetica al congresso nazionale di genetica a napoli nel 2017 l'epigenetica notare che la sigula società italiana di genetica umana ha permesso che noi presentassimo l'epigenetica e quindi questi modelli nel 2017 con un ritardo purtroppo questo nostro paese è un po così di 15 anni quindi sulla base di quello che vi sto raccontando allora praticamente questo fatto che i gruppi vedete nella cellula normale è così noi nella cellula neoplastica vediamo questa ipermetilazione selettiva dei delle sequenze promotere questa liberazione delle sequenze mobili non può essere un caso addirittura questo è sempre il gruppo di esteller vedete praticamente fa vedere come non c'è una carta di identità genetica ma c'è una carta di identità epigenetica perché ogni cancro non ha delle mutazioni specifiche ne ha alcune che sono importanti ma in generale più un'anarchia ma invece mantiene una ipermetilazione di alcuni geni specifici che sono molto più specifici addirittura ci sono modelli matematici che tutto questo lo spiegano e ci sono anche interpretazioni interessanti per esempio questo nel 2006 fa vedere come il movimento dei trasposoni probabilmente è importante sia durante lo sviluppo sia anche in evoluzione ora questo è interessantissimo non ce la faccio oggi a farvelo vedere ma le ultime diapositive poi ve le lascio almeno una parte di queste diapositive e vedrete che i punti in cui avvengono le traslocazioni per esempio sono gli stessi che sono cosiddetti hotspot durante la filogenesi cioè sono i punti in cui i riarrangiamenti genomici sono fondamentali anche nel corso dell'evoluzione delle specie ecco questo è di nuovo Shapiro che come vedete già da 15 20 anni a questa parte fa vedere questo tipo di da questo tipo di interpretazione per esempio al movimento delle sequenze mobili la retrotrasposizione non è un incidente l'accelerazione per cui quelle sequenze che vi ho fatto vedere all'inizio quei retrotrasposoni si muovono in molti tumori e proprio perché fanno secondo Shapiro ma evidentemente ormai dovrebbe essere chiaro un po' a tutti fanno l'ingegneria genomica tra le sequenze importanti sapete che ci sono i cosiddetti cionco no gli oncogeni ebbene interessante che nei virus ci sono i vionc cioè praticamente sequenze identiche a quelle oncogeniche i virus allora inizialmente si pensò probabilmente sono queste che hanno dato vita a queste non è esattamente così perché molte di queste sequenze sono piene di introni per esempio e nei virus ci sono le sequenze sono più semplici quindi è probabile che cionco e bionco abbiano un rapporto molto diverso da quello che normalmente viene inteso questo adesso io non entro ancora una volta nei dettagli l'idea che la gran parte dei retrotrasposoni sono retro sequenze virali inseritesi nel genoma è corretta ma questo perché perché in realtà i retrovirus sono stati nella storia evolutiva importantissimi per noi perché i primati ne hanno metà del loro genoma formato dal retrovirus i retrovirus sono come si potrebbe dire simbionti endogeni li usiamo per fare tutto questo quindi altro che spazzatura stesso discorso per gli RNA minori anche qui già da almeno 15 anni vedete questo articolo del 2007 si è visto che esistono delle mappe per cui i profili degli RNA minori ancora non si poteva capire fino in fondo si pensava che fosse un problema di down regolazione vedete da parte degli RNA minori di alcuni geni piuttosto che di altri lo si spiegava come errori nella modifica cioè nel blocco di alcune dell'ultima fase quella di traduzione o noi ormai sempre più chiaramente tendiamo anche in questo caso a pensare che gli RNA minori sono alterati nel cancro come per esempio gli ecosistemi microbici sapete che ogni tipo di tumore ma anche ogni tipo di patologia cronica ha anche un microbioma alterato associato non per caso ma perché l'intero genoma e l'intero microbioma e l'intero sistema reagisce a tutta una serie di situazioni e apre la strada alla maturazione del tessuto tessuto per esempio questo questi articoli io non sono del tutto d'accordo con loro sono degli amici e sono delle persone care e brave e preparate però alcune volte esagerano parlo di Anna Soto e di Carlo Sonnenstein lei è di origine sudamericana lui è americano che hanno messo in campo questa teoria che non è del tutto nuova ma è interessante per cui lo stroma è importantissimo l'informazione viene dal tessuto i loro esagerano dicendo il genoma non conta nulla la malattia è nel tessuto ora questo è importante poi vi farò vedere però che va reinterpretata a mio parere loro non sono d'accordo perché reputano il loro discorso giustamente fondamentale notare che tutto questo il fatto che l'oncogenesi in realtà sia un'ontogenesi adattativa non è recentissimo per esempio nel 76 quindi ormai una vita fa questo articolo già lo diceva ve ne faccio vedere qualcun altro per esempio questo 82 questo addirittura di Rubin dell'85 dice proprio chiaramente il cancro è un disordine dello sviluppo è un'alterazione fa tutto un approccio cibernetico interessante per cui il cancro è una malattia sistemica disevolutiva addirittura cita Maxwell e Boltzmann per capire quanto fa un discorso di campo vi ricordate Boltzmann e Maxwell sono i primi Maxwell è il grande scienziato che mediante una serie di equazioni descrive finalmente in campo elettromagnetico e parla di campi per primo Boltzmann è questo che è quello che su questa base capisce che bisogna inserire la probabilità per spiegare tutte le modifiche del campo insomma su questa base il cancro può essere spiegato come un insieme come un tessuto addirittura come un sistema che evolve come un disordine complesso vi faccio vedere sempre questi articoli molto di corsa non ho il tempo di fermarmi ma vedete che sono articoli del secolo scorso come mai non sono stati accettati pur essendo articoli importanti non sono stati accettati perché il modello dominante che abbiamo descritto precedentemente quello delle mutazioni stocastiche nelle cellule somatiche e continua a essere tale cioè dominante appunto a nostro parere sempre di più invece bisogna considerare un discorso opposto il cancro nasce dalle cellule staminali le cellule staminali come tutti sapete sono anche quelle che poi purtroppo resistono alle terapie per una serie di motivi e quindi sono anche quelle che residuano e danno le recidive quelle che è difficile stirpare ma le cellule staminali sono quelle da cui partono le cellule cancerose allora a questo punto eccolo qui il salto a mio parere quantico che abbiamo fatto questo era renzo tomatis come vi dicevo renzo è stato grande oncologo sperimentale ma non soltanto è stato quello che ha veramente aperto questo discorso e sta a diretto la IARC ha diretto anche il comitato scientifico di ISDE negli anni fine anni novanta ebbene questo era un ricordo che avevo potuto fare all'accademia di medicina del belgio nel 2012 e che cosa avevo ricordato beh guardate vi faccio vedere un articolo questo articolo fantastico di renzo e del 1979 tra l'altro sulle monografie del cancer institute americano perché è fantastico perché lui studiando il caso drammatico del dietil stilvestrolo per cui che aveva dato origine a molti adenocarcinomi vaginali nelle bambine in donne esposte a quello che adesso sappiamo essere un interferente un scusate sono un po stanco un distruttore endocrino un interferente endocrino in realtà veniva usato come anti abortivo e in realtà non si poteva capire allora perché non era mutageno perché aveva dato tanti tumori addirittura nelle bambine ebbene renzo non solo aveva capito aveva fatto delle sperimentazioni io qui vado un po in fretta però vedete esponendo i topolini aveva visto che c'era una cancerogenesi transgenerazionale e lo aveva descritto in questo articolo dicendo è l'esposizione prenatale a sostanze chimiche che farà aumentare il cancro nelle generazioni successive cioè non era un visionario non era un profeta era uno che lo vedeva in laboratorio e che aveva capito che qualcosa succedeva il dietil stilvestrolo adesso lo sappiamo che cosa cambia non è un mutageno appunto cambia l'espressione di alcuni geni come il WN7A e altri come i geni HOX cioè i geni che controllano la differenziazione cellulare durante l'embriogenesi lo aveva capito alcuni studi lo hanno poi dimostrato anche successivamente che renzo aveva ragione che molti tumori per esempio della donna o della mammella sono legati a questi meccanismi non sono mutageni neanche la diossina è tendenzialmente mutagena ma sono tutti pro cancerogeni perché agiscono in questo modo allora a questo punto quale diventa il modello come si spiega quest'aumento così massiccio nel primo anno di età certo non con un accumulo ormai perfino di mutazioni stocastiche ormai perfino giornali molto diffusi e tutt'altro che scientifici come questo dicono l'aumento dei tumori infantili è catastrofico probabilmente legato a pesticidi assolventi a quello che inaliamo insomma lo si sa come mai non se ne tiene conto ebbene perché perché è difficile immaginare che eventi pre natali adesso lo vedremo in dettaglio possano determinare eventi che si manifestano dopo anni o addirittura decenni quali sono questi eventi natali a che cosa sono dovuti è possibile che quello che è il fumo di sigaretta della madre l'inalazione di metalli i pesticidi nelle catene alimentari determinano tutto questo beh questo è uno dei tanti studi di knox che come vi dicevo prima fanno capire quanto il respirare per esempio benzene o 1,3 butadiene o benzantracene da una madre che vive sopra un'auto una strada trafficata in realtà sia chiaramente spiegabile perché adesso entriamo nella genomica del cancro infantile anche qui sono costretto a correre però i punti essenziali ce la facciamo a vederli guardate nel gris importante oncologo già nel 2005 lui è un oncologo che dà valore ad alcuni aspetti importanti ovviamente è un ortodosso però è abbastanza interessante quello che lui nota per esempio lui nel 2005 nota che un bambino su cento uno su cento oggi nasce con una traslocazione specifica tel aim l1 che è tipica del di alcune leuce mie ora questo è pazzesco perché cosa significa questo significa che evidentemente può essere interpretato anzi partiamo così in due modi lui la interpreta dicendo questo è dimostra che visto che un bambino su cento ha una traslocazione tel aim l1 mentre solo un bambino su 12.000 fa una leucemia vuol dire che non basta la traslocazione elementare sì ma elementare ma può essere interpretato anche in altro modo e cioè che invece la traslocazione è servita in qualche modo non è per niente stocastica non è un'aberrazione cromosomica in 11.900 bambini che era che l'avevano sviluppata il cancro non si forma dobbiamo ragionare in maniera un po' diversa allora vediamo come si può ragionare potrebbe essere che le traslocazioni anziché essere delle aberrazioni cromosomiche quindi nate per sfiga per citare l'articolo di cui parlavo prima sia invece messa in campo in alcune situazioni come fatti reattivi qui per esempio il new england continua a parlare di aberrazioni cromosomiche vedete cromosomal aberration però noterà e poi lo vedremo tra poco alcune cose importanti in quell'articolo allora noi prima di tutto questo era ancora tra di noi renzo era perché ci ha lasciato dicevo renzo tomatis nel 2007 era un articolo molto interessante dal nostro punto di vista è il gruppo di seveso il gruppo di bertazzi e baccarelli che aveva notato con sonni eccetera aveva notato che c'erano molte traslocazioni 14 18 a seveso beh questo è importante perché come tutti sapete seveso significa diossina nelle catene alimentari ovviamente 30 anni prima era stato l'incidente di seveso e questo già vi fa capire di cosa stiamo parlando c'era addirittura un raddoppio di queste traslocazione 14 18 ma attenzione non tutti quelli che facevano la traslocazione 14 18 facevano linfoma follicolare la 14 18 è tipica dell'infoma follicolare e questo è un dato importante adesso lo rispecificheremo meglio qui non c'era già renzo era del 2009 avevo trovato un articolo in cui la stessa idea identica traslocazione si trova per esempio nei contadini che fanno uso di pesticidi sul piano professionale questo è importantissimo perché questo significava che non è la diossina e non è il pesticida che determinano la traslocazione ma che inducono nel genoma la stessa traslocazione capite che è enormemente importante e significa fra l'altro che è la stessa traslocazione a questo punto il fatto che si formi anche gli individui normali e il fatto che come vi dicevo il new england journal of medicine nel 2004 addirittura avesse fatto vedere come la traslocazione 14 18 si trova nei linfomi non hodgkin sia nel linfociti sia nelle cellule endoteliali acquista un rilievo notevole perché queste sono due cellule totalmente diverse che non hanno neanche la stessa derivazione embrionaria quindi sono due meccanismi lo stesso meccanismo in due popolazioni cellulari diverse cosa si pensa che sia contagioso non è esattamente così è che le stesse cellule stanno reagendo per via attiva per via epigenetica a che cosa a qualcosa che sta dando problemi in quel caso abbiamo visto pesticidi abbiamo visto diossine vedremo che ci sono anche altre sostanze che possono attivare questo tipo di meccanismi ma guardiamola un attimo rapidamente come si fa a pensare che sia un'aberrazione cromosomica il fatto che si uniscano due frammenti di due cromosomi diversi come il 14 e il 18 quando questa unione ha un senso perché se voi vedete che cos'è sul piano molecolare la traslocazione 14 18 non è altro che l'attivazione continua del bcl2 che è un gene che controlla l'apoptosi mediante l'enhancer delle immunoglobuline che vedete segnato sul cromosoma 14 ora cosa significa questo significa che queste cellule attivano un gene antiapoptotico che perché perché diventano in pratica linfociti di memoria che dicono guardate che c'è la diossina guardate che c'è la diossina adesso sto esagerando però capite cosa voglio dire queste cellule finiscono col fare che cosa però si immortalizzano allora si c'è le cellule che si immortalizzano sono il passaggio iniziale per la proliferazione del cancro ora tutto questo spero che sia stato chiaro ma non ne vale solo per questo caso sporadico vale per tanti altri o qui ve ne illuso rapidamente un altro il burkitt per esempio il burkitt come sapete è un linfoma non hotkin è un linfoma che è stato descritto inizialmente perché molto frequente in alcune zone d'africa ed è un cancro giovanile è un cancro giovanile in cui però c'è una traslocazione o meglio ce ne sono tre possibili che sono la 8 14 la 8 22 la 2 8 cosa vi colpisce di questa traslocazione beh prima di tutto che il gene interessato è il cimic che è un oncogene che viene continuamente espresso per lo stesso motivo per cui veniva spesso poco fa il bcl2 e cioè perché perché viene esposto alle sequenze in anser e promoter delle immunoglobuline che sono presenti proprio sui cromosomi 2 14 22 e 8 allora questo è clamoroso perché questo significa quello che stia scusate 2 2 stavo sbagliando 2 14 e 22 il cromosoma 8 è quello che contiene il cimic è clamoroso perché esattamente lo stesso meccanismo che abbiamo visto poco fa come meccanismo attivo reattivo difensivo è esattamente messo in campo qui ma qui non c'è il pesticida non c'è la diossina qui cosa c'è qui ci sono il falciparum e le bv allora questo a mio parere ancora una volta chi vuol capire capisce chi non vuole capire non capisce non capirà mai stesso discorso per la 9 22 che è quella delle le lecemia miroide croniche stesso discorso per esempio per la traducazione del ciret e qui siamo a cernobil perché è importante questo perché a cernobil come sapete ci sono radioisotopi nelle catene alimentari è aumentato in maniera pazzesca di mille volte dopo l'86 carcinoma della tiroide e anche altre patologie tiroidee ma che cos'è il ciret il ciret è il gene che controlla lo sviluppo della tiroide allora ancora una volta chi vuole capire capisce questo signore non può capire perché lui continua a guardare riduzionisticamente il dna cercando l'errore cercando la mutazione continua a ragionare in termini di paradosso quando vede l'ipometilazione l'ipermetilazione non va a vedere qualcosa che è avvenuto decenni prima nel cancro e non si rende conto che per esempio la traslocazione che avviene nel primo anno di età questo era l'ultimo studio l'ultimo lavoro di renzo tomatis pubblicato sugli annali di new york in cui lui notava che probabilmente c'è qualche sostanza tossica che determina il danno fin da allora allora che cosa avevamo trovato aveva trovato un singolo articolo ve lo faccio ecco ve lo faccio vedere che qua che già allora nel 2001 faceva vedere che se si espone in laboratorio linfociti in questo caso sono più granulociti comunque i globuli bianchi ad alcune sostanze tra cui notate il bygon il bygon il deep iron cioè la polverina bianca che le mamme non sapendolo mettono in tutti gli angoli delle case ebbene noi abbiamo non danni ipotetici ma abbiamo proprio la traslocazione dell'MLL1 cioè una traslocazione molto specifica di alcune leucemie non sono neanche le linfoblastiche perché nel primo anno di età quelle che sono le molto più pericolose lecemie mieloblastiche e mieloproliferative in generale c'è anche la promielocitica eccetera allora a questo punto questa traslocazione specifica vedete che colpisce essenzialmente i bambini del primo anno può essere spiegata ancora come un'aberrazione cromosomica quando di fatto questo gene che trasloca con altri 70 geni codifica per una istometiltransferasi cioè è il gene che codifica per una proteina che va a spostare i gruppi metilici che vanno a marcare le code degli stoni cioè io dico ancora una volta ci vuole un minimo di senno e basta vedere quello che succede per esempio con alcuni antineoplastici come le toposide che se vengono utilizzati su queste cellule hanno una loro efficacia ma che se si espongono cellule staminali alle toposide ebbene che cosa si forma la traslocazione esattamente dell'MLL1 riarrangiamenti dell'MLL1 insomma in tutto questo non c'è niente di stocastico ora purtroppo non potrò fare tutto ma vi faccio vedere almeno quest'ultimo passaggio questi ultimi prima di tutto nel 2014 abbiamo cercato di elaborare uno schema un modello e io mi ero accorto mi ero reso conto studiando appunto la storia della cancerogenesi che i patologi tedeschi dell'ottocento gli allievi di Fierschow avevano ipotizzato una cosa interessante e cioè che il cancro fosse in realtà lo avevano visto perché avevano visto vedete al microscopio luce delle cellule e le avevano destitte come cellule embrionari in realtà sono cellule staminali attivate quindi cellule diciamo molto simile a quelle embrionari e loro non potevano nel 1840 capire la differenza avevano detto ma non potrebbe essere che il cancro è legato a dei residui embrionari vedete che avevano capito già tutto come mai l'abbiamo dimenticato perché dal 50 70 anni è tutto dna è tutto errori è tutto mutazioni bisogna bombardare le cellule non è così perché se il cancro è un piccolo embrione che sta evolvendo in maniera sbagliata allora dobbiamo capirlo e coloro lo avevano capito avevano ipotizzato che in realtà e soprattutto avevano ipotizzato questo tipo di cancri e lo dimostrano facilmente questo è un teratocarcinoma che cos'è è in praticamente cellule multipotenti totipotenti insomma le cellule germinali che devono migrare come tutti sapete verso il testicolo per esempio si fermano in addome allora loro avevano ipotizzato ed era interessante che questi residui embrionari dormenti esistero praticamente stimolati da che cosa da segnali loro adesso non ricordo dove la frase ma insomma non ha importanza da segnali ectopici loro proprio parlavano di segnali ectopici e lo avevano già definito teoria di campo interessante anche questo perché siamo nel 1860 cioè siamo addirittura nel periodo in cui poi Maxwell fa le sue regole le sue leggi allora cosa voglio dire voglio dire dobbiamo tornare un attimo a rivedere il nostro modellino lineare dell'iniziazione leoplastica con la cellulina che sbaglia e dobbiamo finalmente immaginare qualcosa invece di simile per cui esiste il campo le cellule diventano un piccolo embrione guardate che questo qui ci porterebbe lontano perché non abbiamo ancora una volta il tempo ma io vi sintetizzo così non solo è stato tolto tutto questo in campo biomedico ma è stato tolto tutto questo 50 anni prima o 60 anni prima quando Morgan che era un mutagenetista aveva dimenticato l'embriologia anzi l'aveva proprio espunta dalla storia dell'evoluzione e invece inizialmente l'embriologia i cosiddetti campi morfogenetici erano la base dello sviluppo ma erano anche considerati la base dell'evoluzione capite dopodiché è arrivato il neodarwinismo ha iper semplificato tutto ha riportato la teoria del gene ed ecco che il cancro viene spiegato in questo modellino riduzionista dobbiamo tornare al modello sistemico ma dobbiamo saperlo fare dobbiamo capire che cosa sta succedendo alle cellule staminali che nel tentativo di difendere il tessuto si replicano e vanno incontro a delle vere e proprie riarrangiamenti genomici complessi dobbiamo capire questo è un altro dei punti chiave che quando le cellule danno metastasi e quindi il cancro uccide non è perché ci sono mutazioni stocastiche ma perché il cancro attiva un meccanismo embrionario che si chiama epitelial mesenchymal transition per cui le cellule possano migrare come deve avvenire nell'embrione per andare a raggiungere tessuti organi lontani e dopodiché vanno nel tessuto lontano si fissano e l'epitelial mesenchymal transition segue l'attivazione di un programma opposto che si chiama mesenchymal epitelial transition anche questo è elementare watson non ha niente a che vedere con le mutazioni stocastiche ora tutto questo ancora una volta lo vogliamo dire quello che avviene ad esempio la metastasi non è altro che epitelial mesenchymal transition raggiungimento di un organo distante fissazione delle cellule che ridiventano cellule epiteliali però cancerose ora non credo che sia difficile sul piano teoretico è difficile farlo accettare da chi continua a pensare all'errore è difficile far accettare che l'attivazione della telomerasi è qualcosa che si trova in tutti i tumori perché la telomerasi è un enzima molto attivo nelle prime fasi della vita quindi ancora una volta il cancro viene spiegato molto meglio in questo senso ora anche qui le telomerasi è un discorso lungo non lo posso fare voglio almeno accennare all'effetto warburg un altro effetto fondamentale perché tutti voi sapete che già warburg nel 21 vedete che le cose fondamentali si erano già capite già allora le cellule tumorali sono diverse anche sul piano metabolico da quelle cosiddette normali perché perché inibiscono normalmente la la via del dell'ossidazione mitocondriale del piruvato e riattivano la glicolisi perché tutto questo è importante perché di fatto per esempio l'attivazione della glicolisi e il fenotipo glicolitico in generale blocca l'apoptosi e perché questo cosa significa perché avviene perché di fatto all'inizio soprattutto un cancro deve adattarsi a una situazione di ipossia quindi la regolazione in senso glicolitico che porta poi a un'acidosi locale è un meccanismo inizialmente difensivo che però poi produce una serie di attivazioni pazzesche del meccanismo canceroso per cui il cancerogeno per cui tutte le cellule che vedete proliferano molto più in fretta non vanno più incontro ad apoptosi insomma in poche parole bisogna correggere tutto questo l'ipossia supporta la pulipotenza in ultima analisi bisogna bloccare un meccanismo perché questi tessuti propagano le cellule staminali tumorali quindi è un altro fattore potentissimo di stimolazione di cancerogenesi e di attivazione anche qui in senso metastatico ecco perché io accetto rarissimamente in questo caso e giorgio lo sa non parlo mai dei prodotti in questo caso accenno al self food perché da questo punto di vista è importantissimo perché scifta il la via glicolitica verso la via mitocondriale ossidativa quindi è non è solo un donatore di ossigeno è letteralmente un induttore di maturazione in senso positivo esattamente quello che ci aspettiamo per curare il cancro anziché limitarci a bombardarlo ecco perché gli studi già degli anni settanta che facevano vedere come i blasti possono maturare sono realtà ormai se noi li vogliamo adottare queste nuove modalità di ragionamento guardate un blasto che può diventare di nuovo un granulocita un neutrofilo questo è fondamentale avviene in laboratorio sì ma può avvenire voi lo sapete ormai perfino giornali molto importanti o accennano ma ancora non lo vogliono accettare del tutto beh per esempio quello che fa pier mario biava come sapete come forse vedrete più tardi adesso non so la scaletta non la ricordo beh lui non fa altro che proprio proporre fattori di differenziazione sono in ultima analisi proteine embrionarie quindi differenzia le cellule neoplastiche non le bombarda del resto come vi accennavo all'inizio adesso possiamo veramente arrivare verso la fine guardate che le leucemie promielocitiche che sono tra le peggiori in assoluto come prognosi ormai vengono curate con l'acido retinoico notare che l'acido retinoico non interferisce con la mutazione t15 17 che rimane tale quale questa traslocazione ma non dà più problemi perché perché viene smontata dall'acido retinoico l'assetto epigenetico dei fattori di trascrizione quindi di fatto la proliferazione cellulare si arresta ancora una volta è elementare Watson lo vogliamo capire però che tutto questo che stiamo vedendo queste modificazioni del codice estonico questa ipometilazione questa trasposizione dei movimento dei retrotrasposoni è ingegneria genomica adattativa lo vogliamo capire che quello che Renzo aveva capito già alla fine degli anni 70 e che poi continuava a ripetere non curare il cancro è solo una parte se non si fa la prevenzione primaria e non si riduce l'esposizione dell'embrione del feto noi non potremo fare altro che vedere un aumento continuo questa frase che spesso ripeto di Einstein è quella fondamentale un uomo intelligente risolve i problemi un uomo saggio lievita bisogna arrivare veramente a una visione totalmente diversa è l'ambiente che modula tutto questo l'informazione non va come nel modellino neo darwinista e nel dogma di cric dai geni al fenotipo e poi arriva la natural selection questo modellino va veramente dimenticato è qualcosa di simile non lo posso ovviamente ridiscutere in dettaglio anche perché come vedete è pazzesco quello che ma cambia tutto cambia si basa sull'informazione non si basa sulla biochimica ma si basa sulla capacità delle cellule di reagire e ecco siamo arrivati alla fine vi avevo promesso questo ed è semplicemente un passaggio interessantissimo guardate nel 2005 come questo articolo di science sottolinea che l'evoluzione avviene attraverso le traslocazioni e altre modifiche genomiche riarrangiamenti in punti chiave in hotspot ebbene sono gli stessi in cui spesso si verificano le traslocazioni del cancro allora ancora una volta le traslocazioni sono importanti in evoluzione sono importanti nel cancro credo ancora una volta che ricordare che Renzo sia stato uno dei primi al mondo a capire almeno che in questa direzione si eh doveva andare io non ho fatto altro negli ultimi quindici anni che cercare di portarlo avanti questo paradigma ebbene eh questa ve la faccio vedere ogni volta in conclusione che Planck diceva non è facile che si affermi un paradigma nuovo fino a quando non muoiono quelli che hanno fondato il proprio potere sul vecchio paradigma e io continuo a dire sperando speriamo che avesse torto Planck non nella formulazione che è corretta ma nel fatto che magari a forza di mostrare di mostrare queste queste prove di dimostrare che funzionano le nostre terapie che sono oltretutto e questo è il punto secondo alcuni poco costose perché come sapete sell food e come sapete i principi attivi di Pier Mario costano pochi euro ebbene le fiale che che vengono usate costano migliaia di euro e questo fa la differenza per noi sposta la bilancia da un lato per altri dall'altro e qui io mi fermo grazie dottor Burgio grazie tantissime di questa relazione io vorrei chiedere anche a Giorgio se viene un attimo tra noi vorrei fare una proposta allora come abbiamo detto e anticipato ieri vero Giorgio purtroppo il professor Pietro pace ha avuto un grosso lutto in famiglia perché ha perso il papà giusto Giorgio sì ecco quindi la proposta che io faccio al dottor Burgio visto che sicuramente ci saranno tante domande per lui e so che avrebbe voluto vuole comunicarci anche qualche altra cosa di molto importante anche che riguarda la pandemia in corso che ne dite se posticipiamo le domande al pomeriggio dopo la relazione della Panisi beh io penso che stiamo assolutamente sì così Massimo fa adesso senza ritardo la sua e poi se volete a me è importante solo che mi diciate l'orario in cui dobbiamo ricollegarci io direi che verso le sedici sedici e un quarto in maniera che poi lasciamo facciamo se vuole anche Massimo se vuole anche Cristina facciamo un dibattito e parliamo anche un po del virus va bene per me va tutto bene va bene allora direi di andare dieci minuti proprio dieci non di più in pausa e ci rivediamo qui quindi alle undici e un quarto e per accogliere in aula il dottor Bonucci va bene grazie grazie Ernesto della tua meravigliosa lezione magistrale ma soprattutto epigenetica in poesia che è un'altra cosa grazie possiamo spegnere i microfoni le webcam per dieci minuti tra poco a dieci minuti a poco